salve amici di youtube e benvenuti in questo settimo episodio ottavo episodio gabriele settimo settimo sembra ok e qui con me c'è sempre gabriele prg vedo un blaze scappo scappo arriva blaze ti rompere un culo 26 ma sei tu gabriele sì ciao gabriele blaze sono andato nel nethor ho ammazzato lo blaze e sono qui in pratica abbiamo fatto poi con questa bellissima macchinina i blaze quasi infiniti perché se ve la ricordate questa è la macchina duplicatrice e ne abbiamo fatto 47 64 qui in qui allora aspetta come vedete se io rimango trasformato in blaze non vedo una ceppa di cazzo quindi mi devo ricambiare ok io vado a far vedere a tutti quanti che comunque nel portale siamo andati a trovare i blaze abbiamo trovato lo spawn dei blaze siamo andati a cercarlo per mezz'ora non volevamo annoiarvi facendovi vedere il video perché sennò è una notura di balle e allora vi faccio vedere che ho fatto il white point white point ah sì se ve lo state chiedendo ho preso una pozione magica per avere la faccia invisibile quindi non chiedere però dalla realtà non sul gioco ecco non ha preso è talmente minecraftiano che ha preso la pozione dell'invisibilità dal vivo si è creato la posizione aiuto cazzo quello sta spaccando il portale ci ha spento il coso cosa eh ci ha spento il portale siamo fottuti ah ma porca puttino la bastardo accendimi sto portale stronzo perché sei entrato detto anche tu che potevamo avere una speranza eh tanto ma porca puttana dai sparami 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 ma non così cazzo è fuoco porca vacca non l'ammazzare dove sei io sono qua al portale devo farmi sparare quindi non l'ammazzare portali qua portalo verso portalo verso portalo ai sparami sparami bastardo accendimi sto portale grazie no vaffanculo mi vuoi accendere sto portale è una mira di merda finchia veramente oh cazzo dai più basso scemo di un coglione ma dove deve spaccare dove deve spararlo eh a me qua eccolo no dentro al portale deve sparare cazzo no c'eri in mezzo tu puttana e ma eccolo 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 me ne vado a casa via dentro ah no no allontaniamoci adesso minchia c'è pure il mega ragno ok vi faccio vedere qua subito sulla i white point non ce li ho più i white point bene ah è vero hai cambiato porca puttana è vero hai cambiato di più pure tu merda il ragnone senti mi ha spaccato i coglioni il portale è ancora aperto sì sì ok comunque io mi ricordo più o meno dov'è ce li porto così mi segui aspetta io però prima metto il white point sulla seconda casa è la prima casa siamo nella cacca vabbè guardo il primo episodio guardi le coordinate e guardo le coordinate mi oriento allora ok mettiti i white point sul portale ok orca vacca ceppieri che fa la cacca allora ero andato da queste parti qui ma quello del nether o quello del del nether del nether perché adesso non giro poi me lo perdo più o meno da queste parti perché mi ricordo che era non mi ricordo se 600 mille blocchi una roba del genere mille quattrocento qualcosa se mi ricordo ma è una fesseria comunque questa cosa e cioè che non puoi salvarti white point mi puoi salvare ma abbiamo cambiato sia ip che porta quindi tra virgolette lo riconosce come fosse un altro server wow ma ragazzi questo episodio lo perderemo sicuramente così facendo tipo ma porca vacca occhio che sto volando si non vuoi non vuoi sarà bello tornare indietro dopo eh e va fangulo pure qua era mille quattrocento qualcosa eccoli qua provati e dove dove sei precisamente mille no ottocentro nantaquattro ah ok eccolo qua infatti vedo il coso viola allora c'è poca luce qua o sono gli occhiali che mi impediscono la vista forse sono gli occhiali ecco l'ho trovato oh mio dio mio dio mio dio mio dio lo metto come white point com'è che si chiama blaze io non mi ricordo dove cacchio era aiuto eh sto morendo di fame vieni qua vieni da me tp aspetta sto mangiando tp bello 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 madonna stavo per andare nella lava fottutissimo stronzo ma perchè stai puttana dove sei? eh son qua ecco qua ce ne sono due eccoli ragazzi questi sono i nostri play puttane un pipistrello che sta perdendo fuoco opla bella eh ma sei proprio eh sei de goccio opla adesso possiamo tornare a casa no? si va bene abbiamo trovato un altro vicino perchè c'era un era a 1400 all'incirca muoio 3 2 1 morto ahahah ahahah ecco e quelli come li prendiamo adesso? quelli cosa? item figliari tu eh ero appena andato via adesso ritorno si ma tanto c'era solo una spada di qualcosa ma dove sei morto precisamente? sopra lo spawner sopra lo spawner io sono alla casa vecchia lo sai? davvero? si mi hai rispawnato qui non posso prenderli lo sai cosa c'è dentro? una una spada ah morirò anch'io ecco morto perfetto ragazzi siamo nella vecchia casa e farò così i white point non ecco perfetto quindi la lo Grazie a tutti. 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 No, me l'hai detto. Vabbè, fai i tipi. Eh, mo' me l'hai detto. Mi prendo da mangiare perché non posso morire così. Quanto laggo, bestia! Sto laggando! Ce la faremo a sopravvivere? Comunque ragazzi, abbiamo finito questa bruttissima avventura, per fortuna ho ritrovato pure i miei oggetti che mi ero perso e non mi ricordavo che erano lì. Quindi, almeno avete le prove che eravamo già andati. E basta. Questa è la bacchetta magica che avevo fatto per girare gli engine. E niente, quindi adesso ho cotto gli affari lì. Facciamo così. Ehm, ma vaffanculo sei tu? Ho detto, che cazzo ci fa sto pig zombie qua? Fesseggiamo, messiamo le mani. Sììììììììììì. Allora No, il green cactus cotto Va prima convertito Cosa faremo nel... Cioè, cosa dici tu? Facciamo un'altra cosa o... Aspetta, gli sto facendo finire l'attentata Ah, eccoli, i golden transport people Sì, se tu vai nell'altra casa E mi prendi il cactus Che sono nella chest Almeno finisco di fare sta puntata Cactus è normale Perfetto Sì, i cactus sono normali Ok, questo già Sta andando, perfetto Ottimo Quindi Mi serve la redstone I cactus ce li ha lui Eccoli qua Ok Redstone ce l'abbiamo qua Allora, te lo spiego pure a te I cactus vanno prima Cucinati Craftati No, craftati E diventa in pratica Aspetta, te lo faccio vedere nella crafting va Ok, nell'altra Qua Vieni Ok, sto guardando Metti e diventano cactus paste La pasta va messa nella furnace Va cotta E diventa? Diventa questo Perfetto Una volta che abbiamo Eh sì, questo è un colorante Però Una volta che è diventato colorante così Adesso ne faccio fare due o tre Così te lo faccio vedere Ok, tre Poi continuiamo da soli Lo rimettiamo nella crafting table Guarda E diventa La tela di ragno Ma verde La prendiamo La andiamo in quest'altra crafting Ok Si mette a fianco i tubi d'oro E diventano I tubi d'oro Per liquidi Ok Quindi adesso Finiscimi gli altri tre E mi serve altro oro Gli altri tre ne devi fare soltanto? Eh, per adesso Sì Anzi, me ne basterebbe uno in teoria Ma questi qua Se non li cucino più Cioè, fermo il cactus paste No, no Lascioli cucinare tutti Tanto mi servono tutti così Ok Ok Questo Mettiamo una bella Leva Che abbiamo qui Questa la mettiamo qua Questa la mettiamo qua Questa la mettiamo qua Questa la mettiamo qua Accendiamo La leva Dammi te Perfetto Quindi Tac, tac, tac In teoria Accendiamo la leva Partono tutti Ecco il cazzo Perché non partono gli altri? Da redstone così Non gli piace Perfetto Quindi facciamo Torce di redstone E facciamo prima Oppure facciamo leve Crafta per favore Altre tre leve Ma dove sei? Eh, sono su Ma tu craftare le leve Ah no Me le crafto da solo Non ti preoccupare No perché non ti vedo su Sono dietro i motori Ok Ok Quindi ti devo fare? Niente Già fatto io Tutte le leve così Perfetto Qua ci sono i Pipe Ma qui cosa dovrebbe uscire In teoria? Cioè? Da questo tubo Corrente Ah, ok Sì, adesso l'ho fatto così lungo Perché tanto poi metteremo Tutti i motori Poi mi servono Eh, questo È troppo sopra Ce lo sapevo Così Perfetto Ok, sta lavorando A me sembra Sì, così sta entrando La lava in tutti i pistoni I pistoni Si stanno riempendo Anzi sono pieni Perfetto I tubi sono tutti pieni Adesso questi pistoni Bisogna metterci anche Acqua Quindi Eh, andiamo giù A craftare l'acqua Craftare l'acqua? Sì, vabbè I tubi per l'acqua Ah E mi serve Pipe Mi servono due secchi d'acqua Innanzitutto Innanzitodo Waterpump pipe E ce li ho Poi Un ingranaggio di ferro Ok Poi mi serve La stone gear In qualche parole Un ingranaggio di ferro No di stone Ah, belli Vabbè Piglia lo stone gear Piglia Il ferro E li facciamo Poi redstone Che c'ho Ed il legno Con il green cactus Ok Prendo il ferro Ce ne vogliono Il green cactus Riprendo io Ferro Pigliare un po' di più Che magari ci serve Il green cactus Li ricrafto Perfetto E poi Per sapere se No, così Sì, lo so Lo so È che ho sbagliato Grazie Poi Mettiamo Basta, basta, basta Basta? Fermate Ok Allora Mettiamo Redstone No, mi serve Prima il legno Il legno No, ce l'ho io Ce l'ho io Ce l'ho io Mi serve il legno Che dovevo Adesso te lo faccio vedere Allora, mi serve Mi serve il legno Per fare questi qua Quindi questo Dai Qua 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 E facciamo questi qua Questi li tiriamo via Questi li tiriamo via Questi li mettiamo qua Questi li mettiamo qua Perfetto Ok, questi li mettiamo qua Poi questo li mettiamo qua Questo li mettiamo qua Così questo sotto Questo va sopra I secchi? Poi Eh? No, i secchi mi servono sopra Ah E questo va così Adesso ne faccio solo uno Perché non mi servono due Perfetto E mi ripiglio tutto il resto Ok Quindi via Ok Allora Fa tutto ciò Hai due secchi d'acqua Sì Vieni sopra Questa la togliamo da qua Se non mi serve qua Non mi serve qui Questa la mettiamo qui Perfetto Ok Dove li devo mettere? Allora Dobbiamo fare l'acqua infinita Qui dietro Quindi vieni qua Metti l'acqua infinita Ah, devo diventare pipistrello Eh No, facciamo così Faccio di qua Perfetto Vai, fai diventare l'acqua infinita Eh, ma qua devi chiudere Sennò l'acqua Ah, no, vai Ok Io nel frattempo Metto questa qua Fatto Ok Guarda questa cosa Mi devo spostare Perché se no non vedo Vediamo se L'acqua funziona Allora Passiamo di qua No, sopra così No, non lavora qua Quindi niente Lo spacchiamo di nuovo Ok Togliamo questa così L'acqua la dobbiamo mettere da Sopra così Oh, adesso si è riempito Perfetto Quindi Porca vacca Non va bene Manco qua sopra Qua c'è il tetto Non possiamo farci niente Beh, basta sbaccarlo No, togliamo le leve da qua Oggi tutto se leve Questo ne abbiamo solo uno Dobbiamo andare a prendere altri Ok Facciamo così E quella è Acqua infinita Perfetto Allora Vai per favore A prendere altri lingotti Anzi Vengo giù anch'io Lingotti d'oro? Sì Andiamo qua Così Perfetto Le leve le rimettiamo sopra Mi ho preso tre Eh Duplicali Me ne servono una decina almeno Avanti Sento che bussano Allora Così Ok Ok, fatto Ne ho dieci Adesso Ok, vai nella crafting table Che c'è del vetro Ok Metà a destra E metà a sinistra No No Così E così E così E sbamme te Minchia Hanno fatti troppi Vabbè Togliamo via questo No Ridammi i tubi Ridammi i tubi al ladro Mi metti i tubi al centro Ah vabbè Guarda nella crafting Mi mettevi lì E così E facciamo i golden fluid pipe Ok Ok Torniamo su Possa Ok Ancora Ok Se guardiamo dentro i motori Si riempiono anche di Acqua E che non ha capito Che non siamo in casa Eh Lo so Allora Hai tu le leve Che hai raccolto prima Vero? Sì Mettila a fianco Di questi motori qua Ma perché io L'ho messo in un modo E tu le gira dell'altro Vabbè Cambio le mie Ah li volevi così No vabbè Guarda le cambio le mie Ma è solo per questione di Estetica Eh Sono più belle così Perfetto Ok Adesso non accendere Perché E' tutta energia sprecata Se no E Ok Quindi ragazzi Adesso abbiamo la corrente Per la build craft E Quindi Penso che Mi trasformerò In normale E vi saluto Ok Mi sono già trasformato Intanto Mi ha vomitato Uno di questi Ok Io invece Ho vomitato Un secchio Ok ragazzi Quindi Per questo episodio E' tutto Un saluto Da Bayon Community Aspetta 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 Guardate Oh se Ma no Ecco Comunque Un saluto Da Gabriele PRG E da Bayon Community Ciao a tutti 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 Ciao a tutti